Importante, mi pare che ci sia un canto al riguardo, comunque c'è un testo nella scrittura, qual è la cosa più importante? Amare te, servire te, nodare te. Io richiamo nel nome del Signore, proprio nel nome del Signore, a questa cosa più importante, perché dimentichiamo le cose importanti per guardare alle cose meno importanti o alle cose futili. La cosa più importante è lodare e benedire il Signore, e quando noi abbiamo attesa la cosa più importante, tutte le altre cose cadono. Quando invece noi stiamo attenti alle cose meno importanti, viene meno la cosa più importante. Ora questa sera il Signore ci richiama alla cosa più importante, qual è lodare e benedire Dio. Servirlo, il danno maggiore che possiamo fare alla comunità è preferire le cose meno importanti alla cosa più importante. E il Signore ci richiama questa sera, vi perdete in cose inutili, vi perdete in cose vostre, vi perdete in bacatelle, il mio fuoco brucia tutto. Invece attendete alla cosa più importante. Io vi ho chiamato qui, non per litigare tra di voi, per fare giudizi gli uni sugli altri, vi ho chiamato qui per lodarmi, per benedirmi. Questa è la cosa più importante, fate questo, ci penserò io, perché il gruppo è mio, sono io che lo governo, sono io che lo porto avanti, voi pensate a lodarmi, a benedirmi e non pensate ad altro. Questa è la cosa più importante. Questa è prevestia, cioè è parola del Signore. E noi dobbiamo ascoltare questa parola del Signore. È un richiamo che non io, ma il Signore fa alla comunità. Dov'è la mia lode? Dov'è il mio servizio? Dov'è il mio canto? Lodatemi, beneditemi. Tutti il resto è secondario e se qualcosa non va, l'aggiusto io. A voi tocca lodarmi e amarmi tra di voi. Amen. Ti benedico, Padre, perché hai rivelato queste cose ai piccoli, le hai nascoste i grandi. Ti benedico, Padre, perché nessuno conosce il padre se non il figlio. E nessuno conosce il figlio se non il padre. Ma ci sono di quelli i quali conoscono. E sono quelle i quali tu le hai voluto rivelare. Ti benedico, Padre, perché queste cose misteriose le hai rivelate ai piccoli. Signore, la conoscenza di te è la cosa più grande, perché ci dà la vita. Tu hai detto, questa è la vita eterna. Che conosco da te, oh Padre, e colui che hai mandato. E soltanto i piccoli conoscono te e conoscono colui che hai mandato. Signore, questa sera vogliamo metterci nello stato di piccolezza, di umiltà. Perché la luce, un raggio della tua luce, possa scendere dentro di noi e possiamo conoscerti. Perché nella conoscenza di te c'è la vita. Signore, oh Signore, dacci la conoscenza di te, facci vedere il tuo volto e il volto del Padre, che tanto ci basta. Signore, fa che i nostri occhi siano fissi a te. In te conosciamo Dio, in te conosciamo l'amore infinito di Dio, che è venuto a trovarci, che è venuto a insegnarci la via dalla giustizia, che è venuto a imbolarsi per noi, perché noi fossimo salvi. Oh Dio, amore, che ti sei manifestato a noi, fa che noi ti conosciamo. Questa sera chiediamo la conoscenza di te. Il nostro volto è conoscere te, lodare te, benedire te. L'ore e gloria a te, Signore. Alleluia, alleluia. Gerusalemme, che stai in piedi sull'altura e guarda verso oriente, vedi i tuoi figli riuniti da occidente ad oriente, alla parola del Santo, esultanti per il ricordo di Dio. Si sono allontanati da te a piedi, incalzati dai nemici. Ora Dio te le riconduce in trionfo come sopra un trono regale. Grazie, Signore, poiché Dio ha stabilito di spianare ogni alta montagna e le rupi secolari, di colmare le valli e spianare la terra, perché Israele proceda sicuro sotto la gloria di Dio. Oh, Signore, tu ci dici di camminare sicuri, perché Dio è con Israele, Dio è con noi. Noi vogliamo camminare sicuri, perché il nostro Dio è con noi, Egli cammina con noi, Egli colma le valli, Egli sbuzza le montagne, Egli appiano il sentiero, Egli è con noi, e noi camminiamo sicuri con Lui. Signore, tu hai deciso di fare così, che ti può impedire. Tu vuoi fare così, perché tu sei il Signore. Tu puoi colmare ogni valle, tu puoi abbattere ogni muro, tu puoi spianare la strada che era scoscesa, tu lo puoi e tu lo fai, ed è per queste che noi ti odiamo, ti benediciamo, perché riconosciamo la tua presenza in mezzo a noi. Tu sei con noi, tu sei qui, che ci guidi, e noi andiamo dietro a te. Chi ci può impedire, chi ci può disprezzare, chi può dire che la casa di Dio è in rovina, quando Dio è qui con noi, quando Dio cammina con noi, quando Dio parla ai suoi figli, e dice, non temete, camminate, io sono con voi, grazie, Signore mio Dio, a te l'ora di gloria e benedizione. Amen. I discepoli si avvicinarono a Gesù, dicendo, chi dunque è il più grande nel regno dei cieli, allora Gesù chiamò a sé un bambino, lo posi in mezzo a loro e disse, in verità vi dico, se non vi convertirete, e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Signore Gesù, tu ci raccomandi di diventare bambini. Poco fa ci hai detto che soltanto ai bambini, ai piccoli, hai rivelato il regno di Dio. Chi non è bambino, chi non rinuncia al proprio giudizio, alla propria ragione, non entrerà mai nel regno di Dio. Chi non rinuncia al proprio giudizio, alla propria ragione, proprio degli adulti, proprio dei lotti, dei sapienti di questo mondo, non avrà la rivelazione del regno di Dio, non conoscerà né il padre né il figlio. Signore, la nostra vita è conoscenza Tua. Se noi non ti conosciamo, non ti possiamo amare. E se noi non ti conosciamo e non ti amiamo, non apparteniamo al tuo regno, non abbiamo la vita in noi. La vita in noi è conoscenza di Te, gli amori di Te e dei fratelli. E soltanto col cuore di bambini possiamo conoscere Te, accettare Te e amarci tra di noi. Ti chiediamo, Signore, di diventare bambini, di abilicare al nostro giudizio, di abilicare i nostri ragionamenti tortuosi, ma di accettare tutto da Te e glorificarti e benedirti. Soltanto allora noi entreremo nel regno dei Cieli. E chi più ti fa bambino, tanto più grande davanti a Te, quanto più diventiamo adulti, tanto più piccoli noi siamo nel regno dei Cieli. Signore, Ti chiediamo di comprendere questa infanzia spirituale, questo abbandono a Te, questo abbandono al Tuo amore, alla Tua misericordia, questo lasciar vivere Te dentro di noi, questo lasciarci guidare da Te, non dalla nostra ragione. lode e gloria a Te, Signore. Vi ho scritto nella lettera precedente di non mescolarvi con gli impudichi. non mi riferivo però agli impudichi di questo mondo o agli avari, ai ladri e agli loratri, altrimenti dovreste uscire da questo mondo. Vi ho scritto di non mescolarvi con chi si dice fratello ed è impudico o avaro o idolatro o maldicente o ubriacone o ladro. Con questi tali non dovete neanche mangiare insieme. Spetta forse a me giudicare quelli di fuori non sono quelli di dentro ma non sono quelli di dentro che voi giudicate quelli di fuori li giudicarà Dio togliete il malvagio in mezzo a voi. Ecco il Signore dice tutti siete fratelli però togliete di mezzo a voi quelli che sono avari impuditi e maldicenti. con questi non dovete neanche mangiare altro che dare le mani altro che dire fratello fratello non si deve neanche mangiare togliete il malvagio in mezzo a voi Signore ti chiediamo che tutti quelli che siamo qua dentro non ci giudichiamo gli uni gli altri ti chiediamo che quelli che siamo qua dentro non siamo avari né ladri né maldicenti perché altrimenti neanche dobbiamo stare insieme Signore questa è comunità di santi comunità di colore che pregano Signore ti chiediamo di convertirci tutti convertici tutti all'amore fa un Signore che pensiamo ad amarci a rispettarci gli uni gli altri e edificare insieme la tua città lode e gloria a te Signore diciamo ti glorifichiamo Signore fa che ci umiliamo tutti davanti a te e nell'umiliazione rendersi più uniti gli uni gli altri perché possiamo glorificarti ti chiediamo di camminare in umiltà davanti a te e di rarvarci i piedi gli uni gli altri perché questa è la nostra posizione quella tua dacci il tuo spirito Signore il tuo spirito di umiliazione di sottomissione reciproca così ademperemo la tua legge che è quella della mutua sottomissione lode e gloria a te Signore Signore nessuno è senza peccato e nessuno può scagliare una pietra contro il fratello soltanto tu o Signore ma tu scrivi per terra e poi ti alzi e dice la donna nessuno ti ha condannato neanche io ti condanno perché tu sei un Dio misericordioso tu perdoni il peccato tu soltanto puoi perdonare il peccato a noi tocca non lanciare mai pietre contro il fratello lode e gloria a te Signore ecco ci dice il Signore queste parole umiliatevi davanti al Signore ed egli vi salterà non sparlate gli uni degli altri fratelli chi sparla del fratello o giudica il fratello parla contro la legge e giudica la legge e se tu giudica la legge non sei più uno che osserva la legge ma uno che la giudica Signore tu sempre ritorni sulla stessa parola tu ci dici di umiliarci davanti a te chi è umile non parla non sparla chi sparla non è umile Signore fa che noi siamo umili per non sparlare Signore tu ci avverti di non sparlare gli uni degli altri perché chi sparla del fratello o giudica il fratello va contro la legge e la legge dice di non sparlare di non giudicare Signore fa che siamo osservatori della legge non disobbediente alla legge e tantomeno possiamo giudicare la legge e dire che la legge non è questa perché la tua legge è quella tua e tu hai stabilito la legge e la legge che tu hai date che non sparliamo gli uni degli altri non giudicare giudichiamo gli uni gli altri perché il giudizio è tuo non è in gloria a te Signore diamo questa priera con una parola che ci viene dalla sala è Luca 9 23 24 se qualcuno vuol venire dietro a me rinneghi se stesso prenda la sua croce ogni giorno e mi segua chi vorrà salvare la propria vita la perderà ma chi perderà la propria vita per me la salverà Signore Tu vuoi dirci che il nocciolo della questione è rinegarci rinnegare noi stessi e prendere la croce ogni giorno il seguirti è opera del rinnegamento cioè man mano che noi ci rineghiamo noi ti seguiamo se noi non ci rineghiamo noi restiamo fermi e rinegarci comporta la croce una croce pesante una croce che dobbiamo portare una croce su cui dobbiamo essere crocifisse perché il Padre ama crocifisse riconosce crocifisse non riconosce carismatici ma riconosce crocifisse Signore ti chiediamo di comprendere questa parola e questa sera vogliamo rinnegare noi stessi vogliamo fare il proposito di rinnegare ogni giorno noi stessi di prendere sulle nostre spalle la croce pesante del rinnegamento che è quella di non fare la nostra volontà ma di fare la tua volontà e di seguirti sempre sempre fino a Calvario dove saremo crocifissi per te ma dove risorgeremo con te lode e gloria a te Signore per te lode per te lode per te Grazie a tutti.